La parola d'ordine è cammino e un ideale cammino sui temi della condivisione declinata su diverse piattaforme di pensiero è quello che propone la terza edizione del Cortile di Francesco, la rassegna di incontri, approfondimenti filosofici e culturali che si terrà ad Assisi dal 14 al 17 settembre. Quattro giorni di iniziative, conferenze, workshop con personalità della società civile, della cultura, della politica e dell'arte, ma anche tanti uomini e donne pronti ad ascoltare e a dialogare tra loro sul tema del cammino. La presentazione dell'evento si è svolta stamane a Perugia, alla Sala d'Onore di Palazzo Donini, alla presenza della Presidente della Regione Marini, delle custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, affiancato dal capo ufficio stampa, padre Enzo Fortunato. Presenti anche il segretario organizzativo della CEU, Amilcare Conti, e il Presidente dell'Associazione Oikos Riflessioni, Paolo Ansideri. Tra le personalità che hanno aderito fin dalla primora ci sono Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Lucio Caracciolo, Vito Mancuso, Romano Prodi e Antonio Tajani. Il cortile di Francesco si svilupperà in una serie di incontri durante l'anno che tracceranno la strada che porterà all'evento di settembre. Saranno quattro i percorsi preparatori, arte e territorio, comunicazione, economia e migrazione. Una delle novità di questa edizione è che alla manifestazione sarà presente una nazione e quest'anno sarà la volta della Francia. Una categoria, quella del cammino fondamentale per l'esistenza dell'uomo e che sarà protagonista per comprendere meglio il nostro incedere nel tempo, ha sottolineato il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. Il primo appuntamento è un'anteprima di scena già a fine mese dal titolo Terremoto, cosa fare? L'iniziativa si terrà al Sacro Convento di Assisi dal 30 marzo al primo aprile e vedrà tra gli altri la partecipazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano del Rio, del commissario straordinario per il terremoto del centro Italia Vasco Errani e della presidente della regione Umbria Catiuscia Marini. L'evento sarà aperto alle 21.30 da Filippo D'Averio che terrà un alezio itinerante tra gli affreschi più antichi della Basilica Inferiore di San Francesco. Un itinerario in tre tappe per una strategia nazionale di prevenzione e interventi sulle territorie nazionali. Sarà l'occasione per conoscere il patrimonio architettonico e la sua salvaguardia dal rischio sismico. Il cortile è un momento altissimo che negli anni, ha affermato la presidente Marini, avete sviluppato come luogo di riflessione confronto a prendimento, stimolo e impulso, mettendo in dialogo anche quello che sembrava incompatibile. Il secondo incontro di anteprima sarà sulla comunicazione il 26 maggio ad Assisi e vedrà la partecipazione tra gli altri di Antonio Campo dall'Orto e Giuseppe Giulietti. L'evento realizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura, dal Sacro Convento di Assisi con le famiglie francescane, dalla CEU e dall'associazione Oikos Riflessioni, in collaborazione con Diocesi di Assisi, Comune di Assisi e Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria.